Avevo paura di venire molto bastonato contro il Villanuova, temevo un controcorpo psicologico sulle ragazze quindi mi ero già preparato in settimana di trovare il modo per risollevarle visto che poi abbiamo la partita della Stierici martedì e abbiamo anche la Coppa Lombardia giovedì e invece devo dire che le ragazze sono state veramente brave quest'oggi perché siamo riusciti a vincere 3-2 contro prima in classifica giocando molto bene, una gran pallavolo e soprattutto siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra molto dotata. Il primo set secondo me loro ci hanno preso un po' sotto gamba, sono entrati un po' così molli infatti noi siamo andati via subito, peccato perché ci avevano portati sul 20-18 per noi e poi ci siamo fermati in una posizione su attacco 2 con Marinoni come esterno e non riuscivamo a cambiare. In effetti Marinoni ha fatto molte difficoltà nel primo set tant'è che poi avendolo perso e visto che Sonia era più in partita ho spostato Sonia come S1 e Marinoni ho spostato come S2 e per di più ho tolto anche Tomasi e ha inserito la betta Sandrini che tra l'altro è nel 2005 e devo dire che è entrata bene, lei ha fatto le sue cose, ha fatto bene perché mi mancava la seconda linea un po' tirata e Aurora in questo faceva molta fatica. In effetti secondo sé poi abbiamo cominciato a macinare molto più gioco e siamo riusciti a portarci a casa del set. Il terzo set l'abbiamo giocato ancora allo stesso modo, non ho fatto cambi e abbiamo vinto anche quello. Mi è dispiace tutto il quarto set perché secondo me il quarto set l'abbiamo buttato via noi. Basalari che chiaramente non è abituato a fare il lato quindi molto probabilmente facendo il centro entri e esci, entri e esci e secondo me ha mancato un po' di continuità a livello mentale e si è permessa di mollare leggermente di testa tant'è che il quarto set è partito con una battuta lunga e lei ha toccato una palla che era fuori, poi la tolgo dalla ricezione, la metto sulla riga e una palla che era ancora altamente fuori e me l'ha ricevuta. Quindi questo dimostra che in quel momento lì lei la testa non ce l'aveva nella partita. Su questa falsa riga poi lei ha continuato a giocare durante questo set qui tant'è che poi è nata in difficoltà anche in attacco e anche nel servizio. Ho provato a recuperare un po' perché anche Sandrini che era la più piccolina poi andate in difficoltà e allora ho rimesso dentro Tomasi ma non c'è stato verso di recuperare il punteggio. Il quinto set siamo partiti male perché loro comunque erano ormai euforiche, sono partite molto decise e adesso se non sbaglio abbiamo chiamato a campo un punteggio tipo 8-4 forse, 8-5. Poi dopo loro sono andati comunque avanti e mi sembra che sul 12-10 per loro è andato in battuta Marinoni e ci ha portato praticamente a pari, a pari se non addirittura a 13-12. Poi abbiamo cambiato palla, l'abbiamo subito riconquistata e a questo punto doveva andare in battuta come si chiama lì, la Piantoni che però non è ancora molto afferrata nel servizio e pertanto diciamo che ho indovinato il cambio, però conoscendo chiaramente le caratteristiche delle giocatrici con mano, ho messo in Trubeschi che comunque è sì in questo momento qui non so secondo palleggio ma ha una grande capacità nel servizio, tant'è che è entrata, ha messo in difficoltà il recettore attaccante, non mi ha fatto punto, ha ribattuto, ha fatto ace e sulla terza battuta siamo andati via a vincere il set. Quindi devo dire che questa è una vittoria innanzitutto bella perché inaspettata e poi in merito della squadra perché quando tieni fuori una ragazzina del 2004 per tutti i 5 set la chiami in causa negli ultimi tre punti e ti fa la differenza è tanta roba ma non soltanto a livello tecnico, soprattutto a livello mentale. Quindi complimenti a queste ragazze qua perché comunque noi eravamo in campo tutte under 16 a parte Piantoni che erano nel 2003, poi praticamente abbiamo giocato con tutte le ragazzine del 2004 e più la beta del 2005. Spero che ci dia molto morale perché comunque stiamo molto lavorando nonostante gli infortuni di alcune ragazze, devo dire che anche spostare alcune ragazze fuori ruolo ci sta dando delle buone soddisfazioni. Grazie per la visione!